Questo mese in esclusiva su Caccia. Un'interessante panoramica sulla caccia al colombaccio. Specialità che affonda le radici nella tradizione ma che è tuttora molto amata e praticata. Tre emozionanti appuntamenti dedicati alla caccia alla cerca del capriolo. Una serie di emozionanti racconti tutti al femminile che ci parlano di passione e dedizione per il mondo della caccia. Viaggio nell'affascinante mondo dei fucili di pregio. Caccia TV, trasmettiamo passioni. Caccia TV, trasmettiamo passioni.